Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. Tutto pronto a Vieti sul mare per l'inaugurazione del nuovo attacco alla frazione marina da parte di Travel Mar, la compagnia di navigazione che da oltre 30 anni garantisce il trasporto via mare tra le località della costa d'Amalfi, agevolando la mobilità di residenti, turisti e lavoratori. Il taglio del nastro è previsto per domani, giovedì 15 luglio, alle ore 18. Soddisfazione per questo atteso traguardo è stata espressa dal sindaco Giovanni De Simone. Ovviamente questo è un fiore all'occhiello per l'amministrazione, ma per tutto il territorio vitresi, il quale vedrà finalmente collegarsi alle vie del mare, da Salerno, passando per Vieti e arrivando fino a Calvara. È qualcosa di importante, in cui noi puntiamo soprattutto per un incoming nel territorio vitresi. Il primo cittadino inoltre ha fatto sapere che si attende l'approvazione del bilancio di previsione per l'avvio di altre importanti opere pubbliche su tutto il territorio vietrese. Tanti i progetti e i lavori che al momento però sono fermi a causa del bilancio del consumtivo e del preventivo. Credo che per fine mese risolveremo anche questo e quindi per settembre-ottobre si partirà con i vari interventi di opere pubbliche, di restyling del territorio. Tre interventi però importanti, già sono partiti, sono stati già al vaglio dei vari ingegneri e progettisti e sono tre opere per 2.400.000 euro di messa in sicurezza di alcuni costoni sul nostro territorio, però saranno anche opere di restyling stesso, di dove si va a fare l'intervento. Grazie.